Di recente la bravissima Bebbe Vio è andata a trovare il buon Manuel Bortuzzo. Bebbe è una ragazza in gamba, piacevole, unica nel suo genere e ha voluto incontrare proprio lui, Manuel Bortuzzo, protagonista di qualche giorno fa per quanto riguarda la cronaca italiana. Personaggi divisi o meglio diversi a livello estetico ma uguali nel tipo di vita che stanno vivendo, nel tipo di vita che stanno affrontando secondo la mia opinione. Per una parte Bebbe Vio è una ragazza buona, in gamba, piacevole, straordinaria e fantastica, dall'altra Manuel è un ragazzo con delle problematiche simili secondo me a quelle di Bebbe Vio. Emozioni totali, emozioni garantite, garantibili grazie proprio a Bebbe e a Manuel che insieme si sono visti, insieme si sono scambiati i quattro chiacchiere e questo secondo me è l'emblema dell'amicizia, un'amicizia che probabilmente è nata tra i due. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, complimenti a Bebbe Vio, complimenti a Manuel Bortuzzo, iscrivetevi, commentate, questo video non vuole leggere la privacy né di Manuel né di Bebbe, ma solo informare eventuali persone nel pieno e nel totale rispetto della privacy altrui. Grazie e cordiali saluti da Narratore Italiano.